milly fallo entrare ti ne rispetto un po' il suo complimento prego venga salve ciao si accomodi qui commissario no non sono il commissario ma 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 voi ma ma voi uscite dalla televisione come ogni tanto esco pure in due frigorifera sa no no io dico cioè fate a spiegare fa sodo sodo ma no 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 non voleva dire sodo ma voleva dire gomorra ma qua sta senza pensiero e sta senza pensiero chi l'ha disse che ha assumigli a me capito sono fatta qua mi ha fatto perdere pure il rispetto al mio quartiere la gente mi ferma se fai i selfie e mi metto coppa a facebook e tu permette di una volta io ricerco che io assumigli a killa lo sai che ti faccio ma ma io ancora e chi l'ha da rossare ehi a te ti vanno accattato le patane fritte e così ci metto vicino facciamo un secondo del contorno calma non è stare tranquille che siamo stati tratti l'inganno da una leggera somigliante ma quale somigliante c'è somigliante nessun niente nessuno è somigliante non ti permette di più si sente una tavola che tu non ci vai somigliare a killa lo sai che ti faccio ti mangio la fegata e mi trovo cioè ha parlato lui perché va capigliecce punga come sai a che mi fai dovete fare una denuncia devo depurre una deposizione va bene non vi preoccupate sedetevi qua no la non mi piace sta da cagnato dove volete sei ho decidito a roma se decide ma siete qua ottima scelta ehi ti donate se ci mettete vicino a me perché io ti voglio vicino a me e che giornate che ci pochi minuti e ve ne andate ah cognome ramazzotti ramazzotti mica siete per rendere il cantante là e ci sei da famiglia mi luccando nessuno capito e non ti permette di più ma se non sai che faccio ti mangio l'occhio l'occhio e pure l'orecchio abbiate poco porco siete niente allora cognome ramazzotti nome pietro bel nome festeggiamo insieme pietro e paolo volete favorire ramazzotti pietro di donna ramazzotti pietro di donna campana suone tutte bimbo vanna scu mi serve il nome del padre del figlio e dello spirito santo ma che state a parano tutte dica ancora sentite mi serve il nome di vostro padre e vostro dice don saverio dovete scrivere don saverio don saverio di don saverio pace all'anima sua comissà ah è morto e allora fu ma mi viene a din paolo paolo ramazzotti pietro paolo scusami facciamo arrivare un po' di pane così si spezza l'appetite ramazzotti pietro non è di ma è fu è futon ah è giapponese futon saverio ok una una domanda una curiosità mia eh se vostro padre don saverio siete figlio di prete ma chi sei tutto scemo glielo diciamo tutti i giorni ma non si vuole convincere ma perché non mi fai parlare poco con te che è più simpatico e più bello e più saporito posso fare una domanda? si scusatemi quando qualcuno per strada vi chiede un selfie o un autografo vuoi lo sparare? eh si prima però ma non mi posso alterare più capito? perché? un po' di pressione alta mangiate troppa carne ma vai tu vede cosa fai vuoi mangiare pesce? o là noi e quindi non vi arrabbiate no non più prima mi arrabbiavo ma sai che faccio pure? eh ieri mi ha fermato uno era un autografo io ce l'ho fatto ah ah e allora facciamoci un selfie io lo sapevo io a finire così no perché non vuoi te la passi dopo eh no 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 me l'hai passata te la passi no l'ho già pubblicata io sai quanta mi piace fare questo Musetto ma che state facendo? ma che state facendo? buona la file l'agran